ariete in questi giorni emerge un po di agitazione non siete del tutto rilassati e potreste agire impulsivamente soprattutto nella sfera sentimentale le energie represse altrimenti possono sfociare in qualche piccola tensione praticate un po di attività fisica toro la luna oggi è in aspetto di opposizione e può distorgere le vostre percezioni creando una certa instabilità nell'umore tuttavia il periodo si presenta molto positivo e proficuo sia in ambito lavorativo che nella vita di relazione favorito anche l'amore gemelli fase astrale meno benevola potreste avere diverbi con qualcuno che ostacola i vostri piani ma dovete chiedervi se avete veramente ogni ragione nella sfera lavorativa qualcosa va riassestato meglio essere meno dispersivi e più concentrati sui fatti cancro giornata positiva con la luna amica e buone influenze di sole e mercurio che mettono in moto le energie mentali la voglia di fare progetti favorita la vita sociale i contatti e gli spostamenti venere nel segno inoltre alimenta i sogni sentimentali leone oggi l'umore è un po giù di tono in balia della luna dissonante tuttavia il periodo attuale vi vuole ancora piuttosto carichi di energie positive anche se non avete grandi clamori da affrontare tutto scorre in modo ordinario vergine una splendida giornata vi accoglie il cielo astrale porta grandi favori ed è il momento di ricevere qualche gratificazione di mettersi in gioco con un progetto sole e mercurio in transito nel segno vi offrono una marcia in più nella vita sociale e nei contatti di lavoro bilancia state attraversando un momento un po faticoso che solleva alcune contrarietà e vi rende irritabili la sensazione di irrequietudine permea le giornate e può contaminare anche i rapporti affettivi la vita di coppia meglio un po di rilassamento scorpione oggi la luna è di passaggio nel segno e rende instabili le vostre sensazioni col desiderio di commettere una piccola follia di uscire dalla routine in questi giorni le influenze astrali sono promettenti e benevole dalle questioni di lavoro all'amore sagittario in questo periodo potreste avere a che fare con un po di incertezze di malcontento che si agita soprattutto in ambito lavorativo economico le richieste o gli impegni possono essere pressanti e creare qualche fastidio è facile discutere con qualcuno capricorno la giornata è sotto buoni auspici l'inclinazione ad una maggiore spensierazione liberatezza alleggerisce qualche tensione e smorza i toni polemici possibili conflitti nella sfera amorosa possono inquietarvi ma tutto sommato conviene passare oltre i diverbi di poco conto acquario la luna dissonante oggi può generare una giornata sotto tono vi sentite irritabili ed è opportuno non essere provocatori solo per il gusto di discutere il periodo tuttavia è abbastanza regolare senza disguidi particolari e con una buona carica di energia pesci i favori di questi giorni vanno alle faccende di cuore mentre ondeggiano le questioni legate al lavoro alle finanze e ai rapporti con gli altri i programmi del momento sono un po in salita e vi trovate ad sarginare qualche insoddisfazione non perdetevi in un bicchiere d'acqua buone stelle